Oggi ce ne andiamo dove ci porta il vento alla scoperta di un castello misterioso per provare a svelare i grandi segreti racchiusi fuori e dentro le mura tra leggende avvistamenti e verità celate, per un incontro ravvicinato con l'ignoto e con le paure dell'animo umano. Sono queste stradine, silenziosi e tranquilli, a fare da sfondo al nostro viaggio nel tempo, stradine che si coloreranno di storie e personaggi misteriosi. Quell'amore di questi due bellissimi viene vissuto come una storia punk, oserei dire, molto moderna. Questa è storia vera, è storia della nostra cultura, della nostra musica. L'appuntamento in un altro castello d'Italia all'insegna del mistero. L'appuntamento in un altro castello. L'appuntamento in un altro castello. L'appuntamento in un altro castello. L'appuntamento in un altro castello.